Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un solito campo anticiclonico a tutte le quote conquisterà l'Europa centro-occidentale, favorendo condizioni di elevata stabilità. Solo nelle ore pomeridiane qualche isolato temporale legato al riscaldamento diurno potrà verificarsi lungo la catena appenninica. Lungo il versante orientale, invece, soffieranno ancora i venti di tramontana, attenuando gli effetti dell'aumento termico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per sabato 27 maggio. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio presenza di qualche nube, soprattutto nelle zone interne, a ridosso dei rilievi, ma senza precipitazioni. In serata tornano i cieli sereni e il clima piuttosto fresco. Temperature, come notiamo dalla grafica, in lieve aumento, soprattutto nei valori massimi. Soffieranno venti moderati o forti dai quadranti settentrionali e per quanto riguarda i mari, in generale mossi, molto mosso invece il canale d'Otranto. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ci invia questo scatto di un timido sole al tramonto nascosto tra le nuvole e tra gli olivi nelle campagne di Melendugno, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.